allora vi faccio vedere cosa ho preso allora abbiamo preso allora questa è la spugna del mio ragazzo poi ho preso il nuovo arrivato questo qua idratante questo è il mio preferito allora dato che questo è nuovo l'anno diciamo c'è questo qua rosso che questo che io uso sempre ed è stato ed è ancora il mio preferito latte di mandorla adesso hanno fatto anche questo qua blu proteine del latte e lo vorrei provare per cui questi qui di questa marca è il mio preferito e ve lo straconsiglio e io adesso ne ho usati 21 e un nuovo lo devo ancora usare e questo è praticamente quello che ho preso nuovo questi costavano invece di 2 euro l'ho pagati 99 centesimi la spugna l'ho pagata 1 euro 45 se ad esempio mi interessa e poi ha preso per lui questo deodorante infasil e questo l'ho pagato 1 euro e 99 poi abbiamo preso le carote 85 centesimi il pesce salmone 3 no 7 euro 48 il salmone e 3 euro 87 il l'altro pesce che non mi viene il nome in totale 17 euro e 62 queste sono state le cose che praticamente abbiamo preso poi siamo andati acqua e sapone vi faccio vedere velocemente cosa ho preso poi andiamo a cucinare perché poi vado a lavorare e poi andiamo sul lago di come comunque ho preso acqua e sapone queste qui che le volevo provare 60 pezzi per rimuovere il makeup le salviettine struccanti viso occhi tra in una per cui mi dovrebbero bastare perché sono 60 pezzi poi ho preso questi elastici per i capelli uno nero uno rosa e uno marrone fatti così quando vado a lavorare mi leggo i capelli adesso vi dirò anche i prezzi poi ho preso il bagno doccia della ultra dolce che questi qua secondo me sono buonissimi questo è fico orientale e zucchero di canna dall'odore sembra buonissimo e vedremo vi farò sapere questi sono di 500 ml l'ho preso questo qui in più ho preso anche questo latte di cocco sempre di ultra delicato ultra dolce c'è tutte queste cose qua praticamente ne ho presi due è stato c'è questi qui che vedete in tutto abbiamo speso 12 euro e 20 allora i bagnoschiuma 2 euro e 45 l'uno invece detergente con no salvettine struccanti 1 euro e 50 e invece codini 1 euro e 70 se non mi sbaglio più o meno queste queste sono state le cose che abbiamo preso in poche parole per cui 12 ore 20 in più ho preso un'altra cosa il mio ragazzo però ce l'ha lui e vabbè non ve la faccio vedere comunque abbiamo preso queste questi sono stati gli acquisti che abbiamo fatto scusate per il rumore ma qui c'è sempre casino infatti non riesco mai a registrare un video e stanno togliando l'erba per cui c'è casino comunque volevo salutare in questo blog infermiere durette spero che l'ho pronunciato bene se no lo metto qua così saluto questo ragazzo che mi ha chiesto se lo salutavo nel video se volete essere anche voi salutati nei miei video fatemelo sapere sotto in questi sotto in questo video scusate certo volte il caldo dalla testa e niente detto questo vado a cucinare il pesce sono le 11 26 ma ora che cuciniamo ci vuole un po poi vado a lavorare e poi giustamente andiamo sul lungo lago praticamente faremo nesso non so se qualcuno sa il posto comunque è praticamente sul lago di como andiamo a nesso vi faccio vedere nesso poi poi se riusciamo andiamo a pusiano praticamente vicino a erba che sempre qua nelle mie zone e poi stasera andiamo fuori a mangiare la pizza facciamo il giro pizza queste sono le cose che facciamo oggi e io voglio portarvi con me comunque questo per farvi capire aspetta che vediamo se riesco è la persona che volevo salutare credo che si legge non lo so io non lo vedo comunque è il ragazzo che mi ha chiesto di salutare non si sa mai se poi sbaglio a a dire il nome sbagliato niente detto questo vi faccio vedere cosa faccio in questo blog e vi porto con me per cui non sarà un video parlato meno male niente continuo cioè vedete tutto il blog mi raccomando sperando che non dura tanto ma se dura tanto vi ricordo che sabato io non pubblico i video fino a fino a quando fino al mese di settembre non pubblicherò niente al sabato dato che c'è poca gente che guarda i video su youtube in questi due mesi per cui se il video dura tanto vabbè concedetemelo perché tanto sono quattro giorni che poi non pubblicherò e per cui non so quanto durerà questo video comunque niente vi porto con me e buona visione guardate fino in fondo il video mi raccomando e lasciatemi un like adorbo c'è la linguetta guardate 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Alla fine Guarda che figo Adesso cado giù Ma in teoria qua Si potrebbe fare le foto O il bagno No Non credo che si può fare il bagno Se non borlo giù E ci sono gradini Wow Wow Grazie a tutti 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 Noi E' E' Ho sentito Che bello E' Non si vede a tutti Uffa